Ho fatto il pane proteico, però lo faremo versione dolce di Foodspring, cioè praticamente ho aggiunto a questo preparato che è troppo buono, ha tutti i semini, è buonissimo Abbiamo ricoperto, abbiamo ricoperto con la cioccolata sciolta, cioè guardate qua, questo è pane proteico, che io ho fatto versione dolce, ma si può mangiare tranquillamente al posto del pane, questo di Foodspring Mi giuro ha dei valori nutrizionali ottimi e low carb, e quindi non fa ingrassare, e ha un sapore buonissimo, l'ho fatto nel microonde, si dovrebbe fare nel forno, io l'ho messo tipo 4 minuti nel microonde, è venuto un bonbon esagerato Ho preparato il cappuccino di soia con il latte di mandorla, finalmente l'ho trovato a Lushan, e l'ho dolcificato con questo, questo è sempre di Foodspring, è la stevia però liquida Una goccia ragazze, dolcifica tutto, è ottimo, poi ci prendiamo pure queste, queste sono le vitamine che ho preso da Foodspring, ho fatto un bel rifornimento da Foodspring Dopo vi faccio vedere l'unboxing, comunque se riesco a aprire, amore me lo apri per favore, queste sono praticamente delle vitamine che contengono, invece di prendere solo la vitamina C, solo la vitamina B, ho preso tutto È tipo un multivitaminico, ci sono tantissime vitamine dentro, è molto molto consigliato da prendere, soprattutto incontro all'estate Guardate che meraviglia, è un super panettone, è ottimo questo qua di Foodspring, pane proteico, già pronto Prendiamo queste qua dopo come multivitaminico, soprattutto se vi allenate, vi danno energia, ma poi fanno bene a tutti le vitamine Va tutto in estate perché ti danno energia, quindi evitano gli abbassamenti di pressione, eccetera E questo è il dolcificante, dopo vi faccio vedere tutto il resto Adesso mangiamo, mio amore ha messo anche le gocce di cioccolato sopra Lo toffiamo nel cappuccino, com'è questo cappuccino, amore? Buono Buon appetito, buona colazione, amore Grazie, allora come ai vecchi tempi con le mie manine, vi faccio vedere Visto che me l'avete richiestissimo, vi faccio vedere i miei prodotti preferiti per stare in forma Biologici e naturali, buonissimi, che vi straconsiglio Ragazze, innanzitutto le barrette proteiche di Foodspring, ve le straconsiglio Soprattutto per la colazione, per la merenda e per gli spuntini Sono buonissime, in particolare questo gusto nocciola, ve lo straconsiglio perché è molto buono Se vi piace la cioccolata, la nocciola, stanno tipo di Nutella, vi giuro, provatele, sono buonissime Ci sono anche al mango, comunque ci sono tantissimi gusti Contengono molte proteine e pochi carboidrati, quindi sono perfette soprattutto come pre-workout O comunque se volete fare uno spuntino light, una colazione light, sono veramente buone, ve le straconsiglio La notizia bella è che avete il 25% di sconto sui prodotti Foodspring Se fate l'ordine adesso, quindi adesso che state vedendo il video Catapultatevi sul sito Foodspring perché le prime 10 persone avranno il 25% di sconto Quindi potete prendere tante cose e veramente risparmiare, fare una bella scorta Comunque tutte le altre, caso mai voi doveste tardare o fare l'ordine ad esempio domani, dopo domani Avrete il 15% di sconto, che comunque è un ottimo sconto E vi permette di fare un bel rifornimento di cose sane, buone, biologiche e naturali Per rimettervi in forma per l'estate Wow, così non avete scuse, non avete scuse di a colazione, vi piglio la merendina, la schifezza Anche qua avete cose già pronte che vi permettono di fare una colazione sana, spuntini sani, eccetera Ragazzi un'altra cosa che vi straconsiglio sono questi preparati che io utilizzo tantissimo Perché sono già pronti, basta aggiungere acqua o latte e ti fai i tuoi dolci, le tue merende sane, leggere Sempre con ottimi valori nutrizionali, sempre molto proteici, pochi grassi e pochi carboidrati In particolare ho provato i protein pancake, vi vengono dei pancake buonissimi, super soffici, molto molto buoni Sta veramente 5 secondi, ci aggiungi vegetale oppure un po' d'acqua e li fai in padella, sono buonissimi Quindi non devi stare a pesare tutte le cose e poi sono proteici, quindi hanno ottimi valori nutrizionali E sopra magari ci mettete un po' di burro d'arachidi Questo qua che io come potete vedere ho terminato, c'è rimasto niente È il miglior burro d'arachidi che io abbia mai provato, questo di Foodspring ragazze E ve lo straconsiglio, è come quello che mi faccio in casa, veramente è l'unico Che ha solo arachidi, quindi non ha zuccheri, non ha schifezze aggiunte, è biologico e naturale Provatelo, è buono ed è una colazione molto sana, i pancake con un cucchiaino o due cucchiaini di questo C'è questo che è il protein brownie, cioè praticamente ho preparato già pronto per fare il dolce e il brownie Quello buonissimo al cioccolato, in versione fit light, cioè vabbè, impazzire, come impazzire E questo invece mi è quasi finito perché lo faccio spesso, è il pane proteico Dato che io amo molto il pane, cerco di non mangiare quello là comunque che è raffinato Quello che vendono comunque è pieno di grassi e zuccheri Questo è proteico ed è integrale, quindi è buonissimo, anche qua si aggiunge l'acqua Ed lo fa in forno, è super veloce, ha ottimi valori nutrizionali Il conto Carlita Yt è valido su tutti i prodotti presenti sul sito Foodspring Quindi su qualsiasi cosa, anche cose che io magari non vi ho mostrato Potete applicare lo sconto Un'altra cosa che mi sento di consigliarvi, questo mio masseve assoluto di Foodspring È il porridge al cioccolato, vi giuro è una droga ed è buonissimo E dentro ci sono avena, cereali, cacao, gocce di cioccolata, vi giuro è buono E mi piace tantissimo far colazione con questo Ci aggiungo un po' d'acqua, lo mangio, mi fa andare di corpo, mi regola l'intestino, è buonissimo E soprattutto è molto goloso, quindi anche se ho voglia di cioccolata Però magari voglio stare comunque a dieta e non voglio sgarrare Mi mangio questo qua e vi giuro mi soddisfa tutta la voglia di cioccolato Perché io adoro la cioccolata, devo mangiare cioccolata tutti i giorni Comunque, andate sul sito Foodspring, mettete il mio codice Carlita, il più solo antico Se avete lo sconto su questi meravigliosi prodotti top biologici e naturali Yeah Buongiorno a tutti, ve l'ho già dato il buongiorno? Oggi è una meravigliosa, meravigliosa giornata di sole E io sono troppo felice, amore, tu sei felice? No, perché fa caldo Il mio amore è già caldo Aspetta che mi metto la cintura Ma io adoro il caldo e Dario adora il freddo Penso che questa sia l'unica delle differenze più clamorose che c'è fra di noi Per il resto ci somigliamo molto E comunque, amore, il mio amore stamattina si è svegliato presto alle 11 e domenica oggi Per andare a comprare il pane Ma la domanda è, il pane dov'è? No, non lo mangio Ah, io lo voglio assaggiare, amore Ma è finito già Ma come, già l'hai mangiato tutto? L'ho assaggiato io Oh no, va bene, stavamo a dieta Comunque, ragazze Io sulle labbra ho Sweet Gravity E vi giuro, vi giuro È la tinta più bella che possa esistere È un nude stupendo che rimpolpa le labbra E soprattutto è un nude scuro Non tantissimo, però è scuro Quindi si vede E va bene se siete un po' abbronzate, olivastre Quindi è perfetto per l'estate Penso che me lo stamperò sulle labbra Comunque lo metti, ci mangi, dura tantissimo Comunque come al solito lo trovate su Caritas Shop I capelli stanno crescendo ma non sono abbastanza lunghi E mi sono messa anche le mie amate collanine Stavolta ho abbinato il cuore con la luna E gli orecchini, cuoricino pendente e cuoricino normale Argento e oro Le abbiamo rifornite, abbiamo rifornito sia quella argente sia quella oro E stiamo preparando anche tante novità e sorprese Comunque il mio amore ha acceso l'aria condizionata in macchina ad aprile Amore a luglio cosa farai? A luglio? Ti compri qui Comunque c'è anche Pupi qui Piccola seduta, guardate c'è che signorina Con il guinzaglio nuovo Con il guinzaglio nuovo che Dario è andato a comprare Cioè guardate, cioè non lo so Se esiste un cane più perfetto di Pupi non esiste Comunque buona giornata a tutti Adesso ci aspetta un bel pranzo Già che c'è il pane al pranzo Già una cosa stupenda perché noi non lo mangiamo mai il pane E mangiamo sempre cose alternative E quindi ci sta il pane Yeah Assaggiamo il pane? Io voglio il cucitiello Ma perché lo taglio così? Te lo fai a metà? No perché io lo taglio dall'inizio E mi prendo il cucitiello E mi prendo il cucitiello E poi ci metto a tagliare proprio Ma questo è molto più Amore taglialo più sottile Se no ne mangi 8 file Il cucitiello Amore facciamo medagliette È buono Le figurine a Matteo Pupi ti piace qui? Ci piace tanto C'è un bel giardino Io se ce l'ho Non ti allontanare Pupi Pupi ama la natura Un doppione Oh mio Dio Del Napoli però Due del Napoli Doppioni Ragazzi questo è il sughetto per carne e pesce alla brace Olio Aglio Rosmarino Cos'altro c'è il prezzemolo E sale E sale Le melanzane alla griglia Buone C'è un pennello No vabbè stupendo E vedi tu vuoi essere scelta apposta con le tue branche Eeeh Fallo vedere amore C'è le tue branche Eeeh Per sembrare un pennello Bellissimo Buongiorno ragazzi Continuo questo vlog il giorno dopo Perché ieri praticamente si è chiuso bruscamente Perché non riesco a parlare perché ho la maschera Praticamente mi sono fatta questa qua Che è la maschera Aspettate che chiudo la porta del bagno Che penso che si senta un po' di rumore Quando tiro lo scarico Il rumore è diventato rumoroso Improvvisamente Aveva tanto cambieremo casa A breve Prima novità Ci sono tante bellissime novità Una succederà oggi stasera Vabbè vi dico prima della maschera Ho fatto questa qua Che è la maschera al miele Che sto amando Al miele di Manuka Vi giuro è favolosa Ve la straconsiglio Se avete brufoli Punti neri Macchia Elimina tutto Elimina tutte le impurità È ottima Io l'ho inserita sul mio shop Dopo averla amata E usata per anni Veramente Una delle mie preferite In assoluto Ha il miele di Manuka Lenitiva Quindi non aggredisce la pelle Il miele è un potente Addibatterico antifiammatore Quindi anche se avete Brufoli arrossati Ve li lenisce molto È buona Elimina anche tutti i punti neri Le macchie Poi illumina tanto E lascia la pelle idratata Io adesso la devo andare a togliere Perché si sta già seccando Ed è molto molto buona Un'altra mia preferita Visto le due maschere preferite Sempre di Dr. Organic Che potete trovare Sul mio shop Sono queste qua Questa è quella Ai sali del mal morto Vi giuro È favolosa È troppo troppo bella Praticamente questa qua È molto Sono tutte purificanti È molto purificante Di questa uso Anche la crema viso Sempre ai sali del mal morto Uguale Ve la straconsiglio Molto purificante Anche questa qua Però non aggredisce la pelle E poi c'è questa La rosa Questa Sono anni che io la amo E la uso tutta la linea Alla rosa In particolare Questa è anche lo scrub viso Sono favolosi Vanno un profumo di rosa Molto molto bello Molto molto delicata Ancora più delicata Di questa al miele Ed è una maschera Che assieme Purificante E anche anti-age Quindi Oltre a rendere la pelle luminosa Rimiene anche le rughette Comunque Questa qua Al miele Mi piace tantissimo Provatela Ha anche un buon profumo Comunque vi dicevo Stasera Allora Ieri vi dicevo Siamo andati alle giostre E quindi praticamente Avevo portato Nostro nipote alle giostre E ci siamo goduti La serata Siamo stati comunque Con gli amici Quindi Non mi andava comunque Di mettermi là A registrare L'obiettivo della fotocamera Tutto sporco Che cavolo Aspettate Vabbè E quindi Mo' stamattina Vi sto facendo Questo continuo E anche perché Vi voglio svelare Già Non vi voglio tenere Sulle spine Stasera Andrò a mettermi Andrò a mettermi Le extension Ai capelli Yeee Ai capelli Perché ragazzi Io vi chiedo già Scusa per questa cosa Perdonatevi davvero Per quello Che sto per fare Perdonatevi Ma io non ce la faccio È più forte di me Odio questi capelli corti Non ce la faccio Li voglio lunghi E quindi So già che alcune persone Mi insulteranno Ma io non ce la faccio È più forte di me Devo seguire sempre Il mio istinto E quindi Mi devo allungare Questi capelli Perché non ce la faccio più Comunque Ho trovato Uno bravo Dopo tante ricerche Che mi metterà Delle extension Che non danniggiano i capelli Quindi che non Non si vanno a scaldare Non usano la cheratina Quelle robe Ma sono semplicemente Degli adesivi Quindi che non si danniggiano Poi io sto facendo Comunque la mia cura Per capelli Anticaduta Lo sapete con i miei prodottini Quindi i miei capelli Comunque stanno bene Adesso sono sporchi Quindi non mi preoccupo affatto Quindi sono felice Se tante mi dite che ho la pelle Più luminosa Più bella Senza le imperfezioni Senza le macchie Io sto facendo il trattamento Viso e corpo Al glicolico Per preparare la pelle Al sole E ve lo straconsiglio Adesso ve lo spiego Vi metto il link Nel box informazione Ovviamente trovate tutto Sul mio shop Sono prodotti Che io sto amando E ve li straconsiglio Sono veramente validi Per eliminare le macchie Le imperfezioni dal viso Anche il grigione Per illuminare la pelle E per prepararla Ricevere una bronzatura Più bella Più uniforme E più duratura E quella per il corpo Che praticamente È al 16% di glicolico Ed è anti smagliature Molto rassodante Elimina le smagliature Le imperfezioni La rende più tonica la pelle Quindi un trattamento perfetto Per preparare la pelle al sole Di modo che levigate Tutte le imperfezioni Anche i peli incarniti Tutto Le smagliature La pelle diventa uniforme E così potete abbronzare È tipo come un trattamento glicolico Questi costano tantissimo Quando si fanno nei centri Eccetera Questa è una crema Che potete fare voi a casa E basta semplicemente Applicarla Nulla di particolare Ogni giorno Per il viso invece C'è il trattamento Che è composto da più fasi C'è il pretrattamento acido Che è un tonico Questo qua è un tonico E fluido E va usato Prima di applicare le creme Comunque va usato Ogni giorno come tonico Poi c'è la crema viso Prima si usa questa 12% Che è più esfoliante Quindi per un trattamento Più intensivo Proprio contro le macchie Le impurità Le imperfezioni Le rughe Contro tutto Questa è una crema Veramente miracolosa E poi si usa Quella 3% Che è tipo di mantenimento Quindi è meno intensiva O magari Se voi non avete Così tante Imperfezioni Volete soltanto Eliminare qualche macchietta Illuminare il viso Qualche impurità Potete usare Direttamente questa qua E c'è la maschera viso Glicolica Questa va fatta Due o tre volte a settimana E' ottima Una maschera viso Che si applica sul viso Si lascia in posa Ed elimina tutto Imperfezioni Macchie Impurità Illumina tantissimo La pelle E poi Cosa importantissima C'è questa qua Questa è la crema viso Iperidratante Con filtro solare Questa è quella Che dovete usare Di giorno Come base trucco Quindi come crema Idratante Che ha protezione solare Quindi vi protegge Dal sole Soprattutto se Camminate sotto al sole Se state all'aperto Quindi è una crema Che vi straconsiglio Appunto Per Anche una crema Che contiene Degli estratti Lenitivi Idratanti Comunque contribuisce A illuminare la pelle A renderla più bella Quindi questo E' tutto il trattamento Che io sto facendo Vi metto il link Nei box info Veramente Fatelo Perché avrete una pelle Molto più bella La bronzatura Sarà più bella Vi durerà più a lungo E' più bello Abbronzare una pelle Bella Che quindi Che senza i punti neri Le macchie Eccetera Quindi è un trattamento Veramente Top Ragazzi Questo è il risultato finale Delle extension Mi piacciono A me si Non mi dite Stavo Sono pronta Devo andare Perché è tardi Comunque Non mi dite Stavo meglio Prima Perché mi piaccio Adesso Di più Soprattutto Non mi dite Stai meglio Bruna Perché non mi avrete Mai Bruna Comunque Mi piaccio tantissimo E vi prometto Una cosa Che Da adesso in poi Non taglierò mai più Capelli In vita mia Tranne quando Inciamperanno Nei piedi Ho messo L'Estencio Poi per farmi Crescere i capelli Lunghissimi Li voglio Lunghissimi E però Sempre sul chiaro Perché I capelli scuri Non mi stanno bene Vi piacciono Le collanine Carita Jewelry Abbiamo aggiunto Anche i nuovi gioielli Su Carita Shop Venite a vedere Queste sono Troppo belle Argento e oro Abbinate agli orecchini Vi piacciono Mi piacciono tantissimo Il Carlita Da adesso in poi Sarà Con i capelli lunghi Sarò sempre Con i capelli lunghi Non li taglierò mai più Però C'ho la testa fresca Tipo che Queste extension Ragazzi Mi sono costate 500 euro Vi dico Proprio la sincera verità E spero di durare Perché io C'ho la testa fresca E voglio subito cambiare Quindi penso che Mi durano Dovrebbero durare Quattro mesi Ma io Ho paura che Tipo fra Due settimane Mi scoccerò E li taglierò Di nuovo tutti Comunque me le sono fatte Mettere belle lunghe Però le dovrò Sfilzare Quindi penso che Fra qualche settimana Comunque il mio amore Sta parlando al telefono E ci sta disturbando Ragazzi Vi piace? Mi piacciono? Mi piacciono tantissimo Vi mando un bacio grande Lasciate un like Al video E ci vediamo Al prossimo video Ve amo Perdonatemi Per quello che ho fatto Però Non mi piace Proprio Dove avevo le corte Adesso mi piace Il più Vi do più io Ciao ragazzi Ciao È sempre quello che mi fa stare bene Mi piacciono?